Secondo il Ministero della Difesa britannico, la Russia sta quasi certamente affrontando la peggiore carenza di manodopera degli ultimi decenni. Nel suo ultimo aggiornamento di Intelligence, il Ministero ha affermato che, negli ultimi tre anni, la popolazione russa è diminuita di 2 milioni di persone in più del previsto, un calo che ha attribuito all'impatto della pandemia di Covid e alla guerra in Ucraina. Il Ministero ha dichiarato che nel 2022 lasceranno il paese fino a 1,2 milioni di persone, tra cui molti giovani e ben istruiti che lavorano in settori di alto valore e circa il 10% della forza lavoro nel settore informatico. Le evacuazioni dalla linea del fronte intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizia hanno provocato un avvertimento di sicurezza da parte dell'Organo di Controllo Nucleare delle Nazioni Unite, mentre una serie di recenti attacchi fa aumentare le previsioni di un incombente controffensiva di primavera. L'agenzia di stampa France Presse riferisce che Mosca ha incolpato Kiev, e i suoi sostenitori occidentali, per il crescente numero di attacchi a lungo raggio e operazioni di sabotaggio, anche contro il Cremlino. Sabato un'autobomba ha ferito l'importante scrittore nazionalista Zakhar Prilepin e ucciso il suo assistente, in un attacco che Mosca ha attribuito sia a Kiev che a Washington. Citando l'intensificarsi dei bombardamenti da parte di Kiev, Mosca ha ordinato alle famiglie con bambini e parenti anziani di evacuare temporaneamente una serie di aree sotto controllo russo nel sud dell'Ucraina, tra cui la città vicina alla più grande centrale nucleare d'Europa. La situazione generale nell'area vicina alla centrale nucleare di Zaporizia sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa, ha dichiarato sabato il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, in un comunicato. Sono estremamente preoccupato per i rischi reali che la centrale corre in termini di sicurezza nucleare. L'ordine di rimozione ha provocato un panico folle e code non meno folli al posto di blocco verso la Crimea annessa alla Russia, ha dichiarato Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, nella provincia di Zaporizia, con gli autobus che traghettano le persone fuori ogni 20-30 minuti, ha detto, le stazioni sono state svuotate di benzina. Fedorov ha scritto su Telegram, l'evacuazione parziale che hanno annunciato sta andando troppo veloce, e c'è la possibilità che si stiano preparando per le provocazioni e che per questo motivo si concentrino sui civili. Allerta aerea per Kiev. Gli allarmi per i raid aerei hanno suonato per diverse ore durante la notte e all'inizio di domenica su circa due terzi dell'Ucraina, e i funzionari hanno detto che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto una serie di droni, tra cui uno sopra lo spazio aereo di Kiev. La Reuters ha riferito che l'amministrazione militare della capitale ucraina ha dichiarato su Telegram. Durante l'ultima allerta aerea, un UAV, veicolo aereo senza pilota o di ricognizione nemico è stato rilevato nello spazio aereo di Kiev. Il drone è stato distrutto. In via preliminare, non ci sono state vittime o distruzioni. L'allerta si è estesa da Kiev e dalle regioni a ovest fino a tutte le regioni a este e a sud fino alla regione di Kherson e alla Crimea è annessa alla Russia. Funzionari locali in diverse regioni ucraine hanno riferito che i sistemi di difesa aerea sono stati dispiegati durante la notte, ma non ci sono state informazioni immediate nelle prime ore di domenica su potenziali vittime o danni. L'Ucraina lancia un'ondata di droni contro la Crimea. L'Ucraina ha lanciato più di dieci droni durante la notte sulla penisola di Crimea, tra cui tre sul porto di Sebastopoli, ha detto un funzionario installato in Russia all'inizio di domenica, aggiungendo che i sistemi di difesa aerea hanno respinto tutti gli attacchi a Sebastopoli. La Reuters riporta che il governatore di Sebastopoli installato da Mosca, Mikhail Razvozaev, ha dichiarato su Telegram, nessun oggetto a Sebastopoli è stato danneggiato. Non ci sono stati dettagli immediati su eventuali danni causati dagli attacchi in altre zone della penisola di Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014. Baza, un canale Telegram con legami con le forze dell'ordine russe, ha riferito in precedenza domenica che, secondo le informazioni preliminari del canale, non ci sono state vittime in quella che ha detto essere una serie di attacchi in Crimea. Secondo il monitoraggio ucraino dei canali Telegram, le esplosioni hanno avuto luogo a Sebastopoli e Saki, dove la Russia ha una base aerea, e in alcuni altri luoghi. Nelle ultime due settimane si sono intensificati i colpi contro obiettivi in mano alla Russia, soprattutto in Crimea. L'Ucraina, senza confermare alcun ruolo in questi attacchi, afferma che la distruzione delle infrastrutture è una preparazione per il suo previsto assalto di terra. Il Servizio di Sicurezza Ucraino accusa tutti i senatori del Consiglio della Federazione Russa di invasione del territorio ucraino e complicità in una guerra di aggressione. Il Servizio di Sicurezza Ucraino ha reso noto di aver accusato, in contumacia, tutti i membri del Consiglio della Federazione Russa che hanno sostenuto l'unificazione, con la Russia delle regioni occupate dall'Ucraina di aver invaso il territorio ucraino e di aver condotto una guerra di aggressione. I rappresentanti del Servizio di Sicurezza fanno inoltre notare che l'Ufficio del Procuratore Generale ha raccolto un'ampia base probatoria su 170 senatori russi che hanno contribuito all'occupazione del territorio ucraino. Le accuse riguardano la ratifica da parte dei senatori, nel febbraio 2022, di un accordo di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra la Russia e le autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Luansk. Il comunicato stampa dell'Ucraina rileva inoltre che i senatori hanno appoggiato la proposta di Putin di utilizzare l'esercito russo al di fuori dei confini della Russia. Inoltre, nell'aprile 2022, i senatori hanno sostenuto all'unanimità l'annessione da parte della Russia dei territori occupati di Donetsk, Luansk, Kherson e Zaporizian. Andrei Klishas, capo del Comitato del Consiglio della Federazione per la Legislazione Costituzionale e la Costruzione dello Stato, ha dichiarato che le accuse non hanno conseguenze legali, come il mandato della Corte Penale Internazionale. 45 difensori della Zostal tornano in Ucraina e tre piloti di caccia in Russia nello scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri durante il quale 45 persone sono tornate in Ucraina, riferisce il consigliere presidenziale Andriy Yermak. Si tratta di 42 uomini e tre donne che hanno difeso a Zostal. Tutti hanno prestato servizio nella Guardia Nazionale in unità formate nove anni fa sulle rive dell'Azov. 35 sono sergenti e dieci sono ufficiali, ha scritto Yermak, aggiungendo che «tra loro ci sono combattenti che si sono sposati durante la difesa di Mariupol, ad Azovstal». Yermak ha aggiunto che uno dei soldati ucraini liberati era già stato in prigionia russa una volta, era stato fatto prigioniero durante lo stallo di Scirocchine, una battaglia vicino a Mariupol dal febbraio al giugno 2015, e aveva trascorso due anni e mezzo in prigionia. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato il ritorno in Russia di tre piloti di caccia. In un comunicato stampa si legge che «i membri del servizio liberati saranno trasportati tramite aerei da trasporto militari per il trattamento e la riabilitazione nel Dipartimento Medico del Ministero della Difesa». Grazie. 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 Grazie.